Si chiama Alexander Bogadan Coltenau e da 26 anni il quarto componente la banda che ha rapinato e malmenato brutalmente i coniugi martelli a Lanciano. Questo il video del suo arresto a Caserta ieri pomeriggio per il quale è stato fondamentale l'apporto tecnologico fornito dal SARI, il sistema automatico di riconoscimento delle immagini in uso alla polizia scientifica. Una delle telecamere di sicurezza di Lanciano infatti ha ripreso parte del viso e del mento dell'uomo. Quelle immagini sono state poi inserite nel SARI che ha quindi fornito un riscontro e confermato l'identità del romeno. Il sistema inoltre ha permesso di ricollegare la sua vera identità riportata sul cartellino fotosegnaletico presente in banca dati ad un documento falso con cui il ricercato si muoveva sul territorio italiano. Coltenau è stato tradito dalla vendita di uno degli orologi rubati all'interno della villa dei Martelli. cercava di cederlo ad un ricettatore e così dopo un inseguimento a piedi è stato fermato. Intanto per il fermo dei complici i fratelli romeni Costantin Aurel Turlica e Ion Cosmin Turlica e il cugino Aurel Ruset finiti nel supercarcere di Lanciano le accuse sono quelle di rapina pluriaggravata, lesione gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. I tre ufficialmente lavoravano come operai edili e giardinieri in realtà però avevano il vizietto di furti e rapine anche cruente. Il loro interrogatorio di garanzia è previsto domani davanti al GIP Massimo Canosa. Ieri il loro avvocato Domenico Russo li ha incontrati per stabilire le strategie difensive e molto probabile che si avvarranno della facoltà di non rispondere. La banda di romeni era comunque finita nel mirino dei carabinieri a seguito di sei furti con spaccata commessi sul territorio nelle ultime tre settimane ai danni di bar, tabacchi e benzinai dove avevano rubato numerosi tagliandi grattevinci, stecche di sigarette e contanti.